Però io posso dire, non ci credo più molto a queste fibrillazioni, nel senso della giornata di oggi, le autonomie è molto importante, ma della giornata di oggi mi ha colpito che secondo me c'è stata un'esagerazione evidente, perché tu non puoi nella stessa giornata votare per la riduzione dei parlamentari, che è una roba che insomma alla Lega piace fino a un certo punto, e poi far saltare il vertice sulle autonomie, rompere sulla questione degli emendamenti al sicurezza bis, cioè a me tutto questo sembra un diversivo, un diversivo proprio per evitare che montasse il caso Russia, che come abbiamo visto è partito molto forte. Quindi armi di distrazione di massa? Armi di distrazione di massa. Caro figlio!